Sabato 8 aprile, sul ponte di via Stalingrado, alcuni studenti delle scuole medie di Bologna hanno realizzato un murale per dire no al bullismo. L'iniziativa è parte del progetto Contro il Bullismo per l'uguaglianza e l'integrazione del Comune di Bologna Servizi per i Giovani, ed è stata curata dall'Associazione Nuovamente. Gli studenti hanno espresso il loro messaggio attraverso slogan e frasi ad effetto, che sono state impresse sui muri con la tecnica dello stencil. I lavori dei ragazzi si aggiungono alle opere di street art già realizzate per la valorizzazione del ponte promossa dall'Associazione Amici di Piazza Grande. Stamattina con le scuole, con gli insegnanti che affrontano un problema importante con gli studenti come quelli del bullismo è sicuramente qualcosa che arricchisce il ponte, arricchisce non solo dal punto di vista della figura, dell'occhio, ma anche quello che all'interno delle scuole si respira. Quindi credo che sia un evento significativo, importante e che non si fermerà qui, ma il ponte si arricchirà sicuramente di questo contributo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.